Ciao a tutti, oggi sono con Camilla, è italiana e è un allenatore personale. Che cosa è successo Camilla, motivo della visita, perché sei qua? Un po' tutto, spalle, schiena, sono molto contratta. Quindi stessa stessa, principalmente sull'upper back e l'upper back, le schienze e che altro? Collo e le parti lombane. Ok, that's all. Va bene, I will just translate, io te la durrò un pochino avanti e indietro così, bene così. Prima volta che fai questo tipo di trattamento? Sì, first time doing this kind of treatment. Saluta qui comoda comoda, che partiamo un attimo dalla cervicale per avere un attimino una prova di quello che andiamo a fare. Tranquilla perché non fa male nulla, semplicissimo. Bene, vediamo e rilassati. Brava, perfetto. Ok, ci sei? Tutto liscio? Tutto liscio. Alla grande, una nuova esperienza, new experience. Bene, comoda comoda, brava. Perfetto. Meglio di così non si può. Benvenuto nel club. Bene, pancia in su e ci riposiamo. Alla grande, questo è solo il riscaldamento. Benissimo. Bene, con molta calma ruota da questo lato. Brava. Stendi le gambe e ti rilassi. Bravissima, fai fare tutto a me. Ti aiuto io, tranquilla. Brava. Perfetto. Ok. Comoda comoda. Lascia fare a me. Bravissima. Lascia cadere le gambe, è abbandonatissima. Brava. Già se no più legs. Eccoci. Com'è andato? Bene. Bene. Da personal trainer sei guerriera. stessi facendo uno squat. Esatto. Alla grande. Adesso faccio io. Tu rilassati. Facciamo una cosina un pochino di impegnativa. Brava. Lascia cadere le gambe completamente. Rilassa tutto. Oh. Bene così. E ti riposi. Ok. Bene. We have to do the other side because it has to be balanced. Ok. Ruota da questo lato infatti. Vai. Different spot but simply click. That's fine. Ok. Brava. Lascia cadere le gambe, è abbandonatissima. Brava. Perfetto. E di nuovo approccio sul bacino. Rilassati. Brava. Perfetto. Abbandonatissima. Lascia cadere le gambe. Abbandonati. Brava. Tutto liscio vero? Si si. Vedi su una sportiva è più facile l'approccio. Si. Però è come se facessi palestra anche tu praticamente. Quando fai una giornata così. Quando fai una giornata così. After a day, a working day, like that, this is a kind of a workout for me too. Ovviamente. For sure. Bene. Let's do the same. Now. Abbandonati. Perfect approach. Vai via. Brava. Tu rilassati. Non mi dai fastidio. È comoda. Ok. Brava. Ancora una. Brava. Ancora una. Brava. E ti riposi. Bene. Passiamo dall'altra parte. Brava. Abbandona tutto. Rilassati. Ancora una. Brava. La ferma così. Pausa. Ottima. Riapprozziamo la cervicale. Abbandona tutto. Brava. Ci sei? Bravissima. Ferma così. Con calma. Abbandona. Bene. Ottimo. Ok. Pancia in giù. Pancia in giù. Brava. Rimani sui gomiti. Perfetto. 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 Lascia cadere la testa che la tengo io. Brava. Ti tengo io. Abbandona la testa. Più rilassata che puoi. Comoda. Comoda. Brava. Perfetto così. Altro lato. Io sono sempre io. Rilassa tutto. Abbandonatissima. Ottimo. Ci sei? Sì. Questa era un po' più complessa. Se riesce ne facciamo anche un'altra. Sì. Allora. Vieni con la testa fuori dal lettino. Verso di me. Brava. Però rimani giù con il busto. Bravissima. Perfetto. Lascia me. Brava. Più rilassata che puoi. Non mi aiutare. Faccio tutto io. Brava. Rimani giù rilassata. Ci sei? Brava. Ferma così. Brava. Perfetto. Ottimo. Eh. Questa era un po' impegnativa. Vai. Riscendi giù con calma. E ti riposi. Basta. La testa giù. Rilassata. Brava. Prendiamo un piccolo break. Bene così. Ok. Eh. I will choose the traction. In few minutes. Bene. Tieni di forte qua. Hold on tight to the edge. Ok. Una. Quindi sono allungata di 5 cm. Eh. Allunghiamo anche l'altro lato allora. 5 cm più sul lato. Allunghiamo anche l'altro. O è che sta stambiando. Mentre si sta andando. Allunghiamo. Laci la mano. Ok. Brava. Lascia la giù rilassata. Benissimo. Comoda comoda. Faccio tutto io. Brava. E ti rilassi. Abbandonatissima. Perfetto. Brava. Come è andata? Bene. Alla grande. Si. Stasera lo metterò i tacchi. Alla dietro. Brava. Non ti ho spaventato neanche una tecnica. No. Bravissima. Alla grande. Ok. Yes. It's fine. Ok. Allora. Facciamo una tecnica in più soltanto. Pancia in giù. E chiudiamo. Perfetto. Ci siamo. Eh. Questa era importante per te. Ok. Pancia in su. E ci riposiamo. E andrà benissimo. Un attimo di break. Riposati. Facciamo un piccolo controllo. Ok. Bene. Ok. Sta prendendo il crano. Uh. L'ultima. Perfetto. Ci siamo. Un secondo. Un secondo a pancia in giù che ti controlla anche quest'altra parte. Ci siamo. Benissimo. Ferma così. Abbandona. Ok. Ok. Ci siamo. Bene. Vieni seduta da questo lato. Ti riprendi un secondino. Comoda comoda. Mi sento allungata. Ok. She's taller. Molto. Molto. Morbida. Ok. Softer. Sì. Lighter. Ehm. Non lo so. Mi sento proprio leggera. Loose. Ok. Ok. Good feeling. Ok. Good feedback. Benissimo. Allora mettiamoci in piedi che salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito. Ciao. Ciao. Ciao.